Quando lo sport e la salute chiamano, Maria Grazia Cucinotta risponde sempre. Ma io rispondo sempre perché comunque fa parte dell'essere vivente, cioè stiamo parlando di salute, di benessere. Lo sport associato a un momento di tranquillità, di gioco, ma anche di grande serietà, perché si possono fare gli screening, si può parlare di salute, si parla di tutto quello che comunque aiuta a far vivere bene e meglio. Oggi si parla di prevenzione contro l'ipertensione, domani prevenzione contro le malattie del seno, con Resed Cure, giusto? Domani, oggi sì, contro l'ipertensione, comunque in questa vita caotica ci appartiene a tutti, perché corriamo, corriamo, corriamo e poi ci dimentichiamo che la cosa più importante è quello di vivere bene. E domani invece partiremo dal Circo Massimo con la Race for the Cure. Per me è il quattordicesimo anno di fila ed è meraviglioso, meraviglioso perché comunque è un momento magico. Ormai sei tu la testimonial della prevenzione in tutti i campi. No, no, io sono quella che forse si dà più da fare nel dire e nel ricordare alle persone di fare prevenzione, perché la prevenzione ti aiuta a salvarti, aiuta a salvarti la vita ed è importante, perché corriamo e ci dimentichiamo di mettere la prima cosa nella lista delle cose da fare, andrebbe messa la prevenzione, è quello di curarci e di volerci bene. Progetti futuri? Progetti futuri, è appena uscito giovedì il mio ultimo film come attrice, si chiama La moglie del sarto, un cast fantastico, c'è Marta Gastini, Alessia Vassallo, Ernesto Maillet, tantissimi altri attori fantastici. In bocca al lupo e grazie. Grazie a te, ciao. Grazie a te, ciao.